ma se avrà il sostegno di tutti Casini un attimo è chiaro che altri Buonasera, buon appetito chi va a mangiare? E chi no? Occhio, 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 fai male eh madonna mia ti hai fatto male ecco abbiamo immortalato chiedo scusa Orfini ma tutte le volte che passa Casini uno si illude che dica qualcosa di sostanziale, dimenticando che ciò non accade da decenni che non accade da mesi perché si è inabissato dal punto di vista delle dichiarazioni politiche Mattarella abbiamo iniziato però anche soprattutto dimenticando un'antica scuola politica che insegna a non dire nulla quando è pericoloso dirlo diciamo che proprio quello che è stato il più importante punto di riferimento di Casini, Forlani diceva sono capaci di parlare ore senza dire niente quindi Mattarella è assolutamente un punto esatto a quello mi riferivo Arnaldo